L'emergenza sanitaria diventa sempre più un'emergenza economica, per questo motivo alla Stecca si sta tenendo un tavolo di lavoro per confrontare le varie realtà produttive di Torre del Greco. Cosa sta emergendo da questi incontri? Il tavolo si sta riunendo in maniera fattiva e continuativa perché sta studiando proprio degli strumenti concreti da proporre all'amministrazione comunale ed in particolare ci stiamo concentrando su strumenti che sono già stati adottati da altri comuni e da altre istituzioni in modo da condividere con la nostra amministrazione dei dispositivi che possano essere concretamente messi in atto. Di recente abbiamo avuto un incontro con l'assessore alle attività produttive Civelli, accompagnato dal consigliere D'Ambrose e dal dirigente al ramo, il comandante Visone, con il quale abbiamo condiviso l'oggetto di questo studio. In particolare noi ci siamo concentrati su delle misure da adottare in maniera immediata perché il segnale che dobbiamo dare è quello di dare un respiro già entro la fine del 2020 alle nostre imprese e qualcosa invece da studiare per il futuro a lungo termine per prospettare un'evoluzione positiva di quello che è l'attuale andamento del mercato. Chiaramente dobbiamo fare i conti con quelli che sono i tempi della pubblica amministrazione, siamo in un momento in cui l'amministrazione sta lavorando per la variazione di bilancio, entro l'anno ovviamente vanno definite già delle politiche, quindi i nostri interlocutori si sono impegnati a portare avanti delle misure straordinarie ma chiediamo con forza un impegno affinché queste misure possano essere messe in campo con forza perché stiamo vivendo assolutamente un momento straordinario di difficoltà economica. Il rischio è che se non si interviene immediatamente con delle misure straordinarie molte aziende chiuderanno all'inizio del nuovo anno e il problema più grande è che chiudendo le attività commerciali, chiudendo le imprese ci saranno delle ricadute anche di carattere sociale per cui noi chiediamo, anzi siamo disponibili a studiare, a collaborare affinché si mettano in atto delle misure straordinarie per le imprese di questo territorio. Quali sono le proposte emerse? Allora in particolare ci siamo concentrati su delle misure che sgravano quelle che sono le imposte sulle aziende, quindi chiediamo un abbattimento della quarta rata della Tari, quindi un intervento che va programmato adesso ma che ovviamente ha delle ricadute nel 2021 per tutte le partite IVA perché poi non bisogna dimenticare che anche chi non è stato colpito direttamente dalle disposizioni di chiusura dei dispositivi nazionali e locali, di fatto la crisi sta colpendo in maniera trasversale tutte le attività economiche, quindi sono tutti gravamente in sofferenza, anche i professionisti, per cui la quarta rata della Tari è tagliata per tutte le partite IVA. Poi ci siamo concentrati su alcuni strumenti che possano incentivare anche nell'immediato, quindi anche nel periodo natalizio, gli acquisti, quindi dei voucher da erogare non soltanto nei confronti degli indigenti ma anche di famiglie con redditi fino a 35.000, magari immaginando anche diverse fasce di reddito e diversi tagli di voucher. Però è un modo semplicemente per iniettare un po' di energia nel mercato e quindi favorire quelli che sono i comportamenti di acquisto sul territorio. E poi l'erogazione di fondi di garanzia o comunque la costruzione di un percorso che possa portare a dei fondi di garanzia o addirittura dei fondi per le imprese, perché il problema principale è che anche se qualcuno è riuscito ad utilizzare dei contributi nazionali, dei contributi degli sgravi di varia natura che sono stati messi in atto, di fatto riesce a sopravvivere solo chi ha le spalle forti. Quindi noi dobbiamo immaginare uno strumento per iniettare nuova liquidità a favore delle imprese che stanno sostenendo ancora dei costi notevoli nonostante la crisi dei consumi e dei servizi. Un altro elemento a cui tendiamo particolarmente e che guarda in prospettiva prevede invece la costruzione di una nuova economia circolare. Una piattaforma che sia innanzitutto una piattaforma elettronica ma innanzitutto un circuito che vada ad incentivare la circolarità degli acquisti sul territorio. È uno strumento che noi abbiamo già immaginato in maniera progettuale, che ha bisogno però del supporto dell'amministrazione comunale per poter generare un vero cambiamento culturale anche nel processo degli acquisti. Quindi un modo per espandere le esperienze di vendita, le opportunità di vendita dei negozianti e di fruizione di servizi per tutti i professionisti dell'area di Torre del Greco.